amiche amici di rossini tv oggi siamo in un posto speciale siamo alla cte alla casa delle tecnologie emergenti anzi per essere precisi cte square ma tutto questo poi lo scopriremo nei dettagli che cosa sono queste sigle dove siamo effettivamente e tutto quanto e lo faremo con la padrona di casa con l'assessore francesca franquellucci che vuole ci ha chiamato per per raccontarci bene tutti i dettagli di questo che è a tutti gli effetti uno dei gioielli del suo assessorato francesca buongiorno buongiorno a voi grazie di avermi ascoltato ed essere venuti qua alla casa delle tecnologie ci troviamo nella sede del terzo piano di palazzo mamiani ed è finalmente la sede che è nata proprio dietro al progetto della casa delle tecnologie l'anno scorso il comune di pesaro insieme a dei partner del progetto che sono 17 partner del progetto che si occupano di digitalizzazione tra cui ha partecipato le due università delle marche la politecnica delle marche e l'università di urbino e insieme è stato presentato questo progetto al ministero dello sviluppo economico come vedete dietro di me c'è lo stemma ed è stato vinto un progetto siamo arrivati i settimi di di circa 22 progetti presentati a livello italiano è stato un lavoro incredibile dove sia gli uffici dei sistemi informatici hanno fatto un lavoro straordinario e insieme in sinergia sono riuscite ad arrivare all'obiettivo cosa è successo quando abbiamo vinto abbiamo iniziato a cercare tutte quelle persone interessate a voler iniziare un percorso di innovazione tecnologica e digitale il progetto mira a tre assi che sono la cultura il turismo e l'engagement quindi la partecipazione abbiamo puntato su questi tre obiettivi perché come sappiamo pesaro è capitale della cultura 2024 quindi in questo modo a siamo andati a dare supporto al progetto che già era nella nostra città quindi tutte le cose che voi avete visto che in questi mesi sono state diciamo portate avanti come ad esempio la biosfera il lavoro fatto all'interno dell'auditorium scavolini e il sito di pesaro capitale della cultura è tutto un lavoro fatto insieme alla casa delle tecnologie la prima cosa che ci siamo detti all'interno della giunta è stato quello di fare squadra perché comunque questo progetto ha consentito una vincita di 11 milioni e ciò che nella città innovazione tecnologia però politicamente l'interesse che abbiamo avuto è stato quello di coinvolgere le imprese del nostro territorio e che la ricaduta economica andasse nelle tasche dei nostri cittadini ad esempio la biosfera è stato uno dei progetti che ha coinvolto molte imprese del nostro territorio e quindi la ricaduta è andata sugli artigiani e quelle aziende che si occupano di tecnologia e innovazione della nostra città o comunque del nostro territorio questo lo dico perché una volta che si partecipa ad un bando e vinci una quota è chiaro che quella quota e quei fondi devono essere destinati per quello che tu presenti al progetto non possono essere messi in altri capitoli perché tutti questi soldi che sono arrivati devono essere soldi che vanno messi per l'innovazione la tecnologia e tutto ciò che è digitale poi cosa sono nati sono nati dei progetti dei progetti anche interessanti ad esempio in questo momento se avete visto si sta promuovendo tantissimo questa piattaforma uom che il comune di pesaro ha pagato per far sì che le nostre imprese del territorio possono entrare all'interno di questa piattaforma gratuitamente perché sono oggi gli imprenditori si ritrovano anche a dover spendere per poter fare innovazione e tecnologia e quindi per un anno intero potranno entrare all'interno di questa piattaforma ed è una piattaforma che vuole creare valore sociale all'interno della nostra città ci sono tanti cittadini che fanno volontariato si danno da fare ma anche proprio per se stessi per la salute e il benessere quindi scaricando questa app possono entrare all'interno di un circuito e accreditarsi questi uom che può sembrare difficile perché poi comunque tutto ciò che è nuovo l'innovazione tecnologica spaventa però poi quando uno inizia no ci capita anche a noi iniziamo anche noi nelle varie piattaforme diventa molto semplice e accreditandosi questi uom potranno andare presso queste attività e avere degli sconti maggiori. Questi sono alcuni dei progetti che sono stati fatti ad esempio oggi è partito il progetto Coditrip, hanno tutti questi nomi un po' inglesi che per me è difficile infatti io cerco sempre di andare a spiegare in modo semplice perché sono convinta che anche i cittadini devono capire bene di che cosa si tratta ed è una gita virtuale dove i ragazzi delle scuole di tutta Italia saranno collegati e quindi noi facciamo visitare la città di Pesaro in modo virtuale. Il sito è altra cosa molto interessante nella quale le partecipate del progetto della Casa delle Tecnologie hanno lavorato ma quello che è successo in questi anni che forse in questo anno che forse è rimasto un po' silente è il fatto del coinvolgimento dei giovani nel progetto. Ad esempio a dicembre noi abbiamo fatto un incontro con CityVision un'associazione che lavora a livello nazionale dove abbiamo coinvolto tutti i ragazzi delle scuole appunto per andare verso il mondo dell'innovazione e della tecnologia però l'innovazione e la tecnologia di usarla in modo intelligente cioè di cercare di trovare o anche tramite le idee dei ragazzi dei progetti che pensano sia la transizione ecologica ma anche la transizione digitale perché il digitale può essere molto utile per questo appunto cambiamento che dobbiamo assolutamente mettere in atto per salvare noi stessi i nostri figli e per il futuro che riguarda l'ambiente quindi la tecnologia in tutto questo può essere molto di aiuto. Poi altro progetto perché sono tantissimi che sono stati fatti abbiamo coinvolto tutte le imprese del nostro territorio e abbiamo fatto circa quattro incontri in questo anno dove c'è stata molta partecipazione anche persone interessate dove hanno presentato anche dei progetti quindi nuove start up sulla innovazione e la tecnologia. Questo è un po' per dire tutto il lavoro che è stato fatto però ribadisco che questi fondi arrivati sono tutti fondi che devono essere messi nella tecnologia e l'innovazione infatti i progetti che vengono scritti poi mandati al ministero devono andare su dei parametri ben precisi e quindi non possiamo uscire da questi parametri. Mentre ascoltavo mi venivano in mente delle domande e puntualmente arrivava già la risposta per cui ho tante domande a questo punto non ne ho o meglio ne ho perché sono le domande dell'uomo della strada e sono soprattutto delle sottolineature. Quello che hai appena detto in conclusione di tutto l'intervento credo che sia una delle cose da ribadire in maniera molto forte perché in effetti anche leggendo un po' sentendo ascoltando la prima cosa che viene in mente soprattutto su queste cifre importanti perché parliamo di un bando da 11 milioni e 300 mila euro su queste cifre importanti il cittadino rimane un po' perplesso e dice ma in fondo e ognuno guarda sotto casa, quello che ha la buca sotto casa pensa che era meglio chiudere la sua buca, quello che ha l'incastro nel traffico pensa che lì forse era meglio fare una deviazione, insomma ognuno pensa al massimo a 15 metri da casa sua. Invece è molto importante ribadire questo concetto che hai giustamente sottolineato e ribadito con forza. Questi bandi a cui si accede importanti da parte del Ministero, ribadiamo sono pochissime le città italiane che hanno avuto questa possibilità e non è che l'hanno avuta perché sono state sorteggiate, l'hanno avuta perché hanno presentato comunque un progetto giudicato interessante e finanziabile, allora questi soldi che arrivano non possono, non si dovrebbero, non possono essere utilizzati per nient'altro che non sia quello prefisso e previsto dal bando e da quello che è il progetto. Di conseguenza qualunque utilizzo diverso sarebbe un abuso questo va sottolineato, va spiegato con forza perché altrimenti si rischia un po' di essere fuorviati da tutto è un altro elemento importante e perdonami se lo ribadisco ancora ma credo che sia uno dei punti chiave che poi possono essere utili anche finalmente a dirimere tante controversie, tante battute, tanti tanti incompresi e fraintendimenti è che comunque la scelta dell'amministrazione, qui sì che è una scelta importante, è stata quella di riversare sul territorio tutto quello che viene speso, cioè le aziende coinvolte sia come partner che come fornitori che come operatori nei vari progetti sono aziende del territorio perché è importante questo? È importante perché comunque i soldi che arrivano dal ministero restano nel territorio allora se tu spendi i famosi 700 mila euro della biosfera ma li spendi in aziende del territorio li hai spesi ma li hai messi comunque al servizio della comunità. Questi due punti chiave credo che siano veramente fondamentali perché solo facendoli propri, solo nel momento in cui in questo caso il telespettatore di Rossini TV ma il cittadino comincia a farli propri e a digerirli allora si capisce un po' tutto quello che viene fatto si evita quel giochino un po' futile, un po' puerile di fare il conto della serva ma era meglio qui, era meglio là che francamente dopo un po' diventa anche inutile anche un po', lo dico così, anche da a mia volta telespettatore, da cittadino fastidioso, fastidioso perché c'è un lavoro enorme, siamo all'interno della sede, c'è un lavoro gigantesco fatto di progettazioni, fatto di approfondimenti, fatto di studi, fatto di ricerca, fatto di grandi novità e poi ridurre tutto questo al fatto sì ma si poteva, c'è sempre un invece nella testa di qualcuno. Per cui noi siamo qua e ci domandiamo e se ve lo domandate avete gli strumenti perché c'è un sito che tra l'altro fra un po' verrà comunque e viene comunque implementato e ci domandiamo quali saranno i prossimi passi perché quello che abbiamo visto oggi con l'inaugurazione thriller della biosfera della quale sono stato anche così un involontario protagonista perché poi c'è stata questa doppia inaugurazione che alla fine è più divertente considerare che è evoluta. Dai diciamo che era voluta, diciamo che è stata, esatto, è stata prolungata. Il giorno prima pioveva, il giorno dopo c'era il tempo bello, molta più gente, molta più curiosità e poi appunto l'inaugurazione dell'auditorium Scavolini all'interno del quale l'impianto che tra l'altro per chi c'era insomma voglio dire l'impiantone eccezionale, l'impianto audio e tutto il resto tecnologico e appunto fa parte dei progetti e poi qualcos'altro ce l'hai detto e qualcos'altro ancora? Sì, una cosa molto importante che ritengo fondamentale è che i cittadini capiscono che noi nel comune di Piesa avevamo questo ufficio che tutti chiamavano il CED un ufficio che tutti possono pensare è semplice, che lavora dietro le quinte mentre invece poi è quello che porta avanti la macchina amministrativa ed è sempre stato molto avanti negli anni, anche quando io sono arrivata e facevo l'assessore mi dicevano anche da Ancona o comunque nelle varie riunioni che partecipavo che come ufficio era un ufficio molto innovativo e stava al passo dell'innovazione quando è arrivato il Covid poi ci siamo resi conto di tutti quanti di quanto fosse fondamentale questo ufficio del comune di Pesaro perché era poi quello che manda avanti tutta la macchina amministrativa perché se i computer non funzionano il comune si ferma quindi da quel momento ci si è resi conto di quanto fosse fondamentale e anche comunque fondamentale che questo ufficio emergesse in qualche modo con il progetto della Casa delle Tecnologie ma hanno vinto tantissimi altri bandi che comunque il comune ha potuto usufruire questo ufficio si è trasformato e non è più il CED l'ufficio che sistema i computer ma è diventato un ufficio di trasformazione tecnologica e digitale quindi io di questo voglio ringraziare tutto il grande lavoro che hanno fatto perché sono veramente persone brave e competenti che abbiamo all'interno del comune di Pesaro e che dobbiamo in qualche modo anche noi della politica valorizzare perché noi siamo sempre quelli davanti alla telecamera ma poi ci sono loro da dietro che lavorano e fanno un lavoro eccezionale e poi per quanto riguarda la biosfera la biosfera è comunque un'opportunità perché noi oggi vediamo tante persone che arrivano dall'entroterra arrivano da altri posti d'Italia che vengono a visitare questa biosfera oltre anche al fatto che vuole essere educativa per il discorso dell'ambiente perché comunque viene suddivisa in tre assi anche la parte storica di Pesaro per far conoscere la città, la parte ambientale e poi c'è la parte dell'engagement quindi la partecipazione del cittadino che può interagire con la biosfera tutte queste cose portano comunque attrattiva nella nostra città come ad esempio l'auditorium Scavolini questo progetto bellissimo che è stato fatto ma ha aiutato a far terminare i lavori e fare riaprire finalmente il palazzetto che era da tanto poi c'è il progetto all'interno della casa delle tecnologie la sonoteca, poi ci sarà la sonosfera quindi sono tutti i progetti che poi vedrete a ricaduta nella nostra città e cosa molto interessante sono anche le università che stanno facendo partecipare i ragazzi ai bandi perché come ho detto appunto all'inizio i fondi sono stati divisi con i vari partner del progetto e quindi anche i ragazzi possono partecipare con delle start-up o con delle idee innovative e quindi anche loro entrare nel mondo del futuro sempre tenendo presente una cosa che dico sempre alla mia dirigente di tenere sempre in considerazione che la transizione digitale deve essere educativa non deve diventare un problema perché parliamo anche di intelligenza artificiale e anche io da mamma la prima cosa che mi preoccupo per i miei figli in quanto li vedo sempre sul cellulare, sul computer abbiamo questo problema e quindi è importante anche far passare il messaggio dell'intelligenza artificiale come un'educazione per i nostri figli di trovare le opportunità che tutto quel mondo della digitalizzazione può essere di beneficio per la nostra vita ma non certo deve diventare un problema diciamo psicologico ci stiamo avviando alla conclusione di questo primo incontro durante il quale abbiamo fatto un escursus un po' in tutte quelle che sono le premesse e i fondamentali della CTE, della Casa delle Tecnologie Emergenti di CTE Square che è il progetto di Pesaro probabilmente a questo punto è il caso di sentire visto che la cosa fa parte ovviamente di Pesaro 2024 anche un commento dall'assessore Vimmini lo andiamo a cercare poi torniamo qua però per salutarci giusto? Sì va benissimo, giusto perché appunto c'è stato molto supporto tra i vari assessorati per portare avanti i progetti quindi è stato coinvolto urbanistica, è stato coinvolto le opere pubbliche l'assessore Pozzi, l'assessore Mila della Dora abbiamo lavorato molto in sinergia con la Casa delle Tecnologie Emergenti era fondamentale per arrivare agli obiettivi Siamo venuti a cercare l'assessore Vimmini l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato qua nella sede di Pesaro 2024 proprio perché tutta la lunga chiacchierata che abbiamo fatto sulla CTE sulla Casa delle Tecnologie Emergenti si sposa perfettamente con tutta l'idea appunto di Pesaro Capitale Italiana della Cultura Assolutamente, sono percorsi nati in maniera parallela l'opportunità della Casa delle Tecnologie è stata messa a disposizione nel percorso della Capitale Italiana e chiaramente tutta la progettualità della Capitale Italiana della Cultura che ricordiamo in ogni suo ambito di dossier verte sul trinomio tra sostenibilità, patrimonio e tecnologia ha rafforzato la credibilità del percorso di candidatura al bando per la città di Pesaro che è stato un percorso anche molto fortunato e premiato della Casa delle Tecnologie proprio perché sono tanti punti di contatto nella visione ma anche nella realizzazione concreta dai luoghi dove eravate fisicamente con tutti gli spazi rimessi a disposizione non solo per i servizi pubblici legati alla tecnologia ma anche per le imprese, per i soggetti privati in cui i luoghi possono agire ed operare fino ai progetti sposati, condivisi ricordiamo la grande biosfera in Piazza del Popolo che è appunto una produzione che lega estrettamente Casa delle Tecnologie Emergenti e Capitale 24 anche con la possibilità di diventare anche un palincesto di nuovi progetti l'adattamento di spazi come il grande salone Antonia Pallerini di Palazzo Guerrari che a brevissimo verrà aperto e inaugurato con una rifunzionalizzazione tecnica e tecnologica realizzata dalla Casa delle Tecnologie proprio per creare un altro hub un altro punto di riferimento e di incontro con il pubblico fino a momenti apparentemente più estemporanei ma che permettono di arrivare molto in profondità come proprio ad esempio questa mattina assieme al professor Bogliolo siamo entrati in collegamento con oltre 7.000 studenti di tutta Italia interagendo da Casa Rossini quindi quanto di più analogico e monumentale possa esistere attraverso le tecnologie arrivando a parlare del luogo dove è nato Rossini quindi delle storie collegate a ragazzi che interagivano, facevano domande geolocalizzavano Pesaro insomma un modo nuovo ma che sarà un pezzettino di futuro che il legame tra Casa Tecnologie e Capitale Italiana della Cultura in più in generale comuni di Pesaro oltre ai partner in particolar modo a partire dall'università possono mettere in campo Continua allora questo collezionamento di tasselli del puzzle con l'obiettivo che è quello poi alla fine di definire meglio possibile il concetto di cultura perché in fondo in quanto Capitale Italiana della Cultura questa è una delle responsabilità Sì assolutamente con un'attenzione forte al patrimonio che ereditiamo sia quello artistico che quello naturale paesaggistico ma senza accontentarsi di quello chiaramente con le giuste attenzioni alla tutela ma anche la valorizzazione che è uno dei nostri compiti che passa appunto per tutti gli strumenti tra cui quello tecnologico ripeto non solo per raccontare l'esistente ma anche per mettersi in discussione per mettersi in discussione il nostro patrimonio, i depositi la stessa lettura di un'opera o di un'architettura diciamo che negli anni cambia anche di concezione, di visibilità anche rispetto alle nuove generazioni e soprattutto chiedere alle nuove generazioni anche attraverso la tecnologia ma non solo di essere protagonisti anche del loro presente e del loro futuro quindi di conoscere, interrogarsi dialogare con la storia del patrimonio artistico ma anche diventando nuovi soggetti e promotori di nuove azioni come nell'ambito della capitale della cultura nei 45 filoni d'azione del dossier E adesso siamo veramente in chiusura siamo in chiusura ci auguriamo di essere riusciti a dare questa panoramica molto ampia di tutto quello che si sta muovendo in uno dei settori fondamentali non solo di Pesaro 20-24 ma anche un po' nella vita della nostra città in un momento tra l'altro così delicato in questo momento di passaggio vedremo cosa succederà ma questa cosa va avanti fino a quando va avanti il progetto nello specifico? Fino al prossimo anno perché il progetto durerà due anni quindi fino a tutto a fine 2025 e quindi ne vedrete delle belle sicuramente Assessore come salutiamo i telespettatori di Rossini TV alla fine di questa bella chiacchierata invitandoli naturalmente a continuare ad approfondire anche da soli magari andando a vedere sul sito e seguendo con attenzione e con un occhio attento ma fiducioso tutto quello che viene proposto Sì, io ringrazio voi di TV Rossini ringrazio i cittadini che ci hanno ascoltato è stato un modo per far capire bene di che cosa si parla quando parliamo della Casa delle Tecnologie Emergenti quindi ci sono grandi opportunità non fatevele scappare quindi se avete bisogno di informazioni anche nella pagina Facebook della Casa delle Tecnologie Emergenti potete andare a visitare e così vi rendete conto di tutto il lavoro e tutto il progetto che sta procedendo anche abbastanza velocemente Grazie a tutti